A partire dalle prime ore dell'alba in diverse regioni del territorio nazionale i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito 27 provvedimenti restrittivi emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. Gli arrestati, tra cui anche commercialisti e avvocati, sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata la commissione di reati contro il patrimonio, anche ai danni di noti istituti di credito e numerose società finanziarie e la pubblica fede nonché di riciclaggio degli illeciti profitti. Nel corso dell'operazione convenzionalmente denominata Cala S.p.A. sono stati sequestrati beni per un valore di circa 10 milioni di euro. Una delle truffe scoperte dall'inchiesta della procura palermitana ai danni di banche finanziarie sarebbe stata messa a segno anche nei riguardi della banca Monte dei Paschi di Siena. Tra gli arrestati vi è anche un cracker programmatore informatico. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Geri Ferrara e condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri. Sono state arrestate anche tre persone contigue a Cosa Nostra.